Il dialogo era già iniziato mesi fa ma il comitato pista ciclabile Magenta Corbetta ha deciso di rilanciare e ha proposto alla sindaca di Magenta Chiara Calati un nuovo progetto ecocompatibile e, il che non guasta mai, anche più economico. Noi siamo partiti da un progetto già esistente e già approvato. Abbiamo cercato di fare in modo che valorizzasse il territorio dove questa pista ciclabile viene inserita. collegando Corbetta Magenta in un territorio agricolo quindi sarà una pista proprio del tutto sostenibile e valorizzando proprio dove si inserisce siamo riusciti anche a fare una cosa che costasse di meno quindi che fosse un investimento per il comune meno oneroso e quindi più irrealizzabile come promesso entro il 2021. Il comitato ha lavorato per mesi con esperti del settore per confezionare la proposta che a quanto pare ha raccolto l'interesse del primo cittadino. Noi proponiamo una pista ciclabile che parte da un concetto etico della progettazione delle infrastrutture pubbliche e che, imitando i vecchi sentieri agricoli, propone un tracciato adagiato in maniera più conforme all'ambiente. Attraverso la tecnologia della terra stabilizzata noi riusciamo a fare una pista ciclabile sicura ed economica ma soprattutto compatibile con l'ambiente. Abbiamo fatto un ragionamento e abbiamo anche chiesto diverse soluzioni ad aziende specializzate che operano nel settore. Siamo riusciti a portare il costo complessivo dell'opera dai 350 mila euro che erano stati preventivati in sede di progetto preliminare dal comune a circa 200 mila euro quindi riducendo in maniera significativa il costo dell'opera.